Entrata nella casa Sono al primo ma ho paura eh Cosa? E' gigante Ma che cavolo Non rendeva così da fuori No 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 ragazzi fermi Ok qua c'è una stanza, qua il bagno devo trovare il posto migliore Da quel cavolo di paese Se posso andare tutte le postazioni in alto Devo trovare il posto migliore, questo bagno Vabbè gigante no Prendo quella vicino al bagno eh Sì questa è camera mia Metto qua il mio zaino Signori avete proprio capito bene Questa sarà la nostra nuova villa Vi giuro ragazzi che assurda Non, no vabbè No vabbè questa c'è pure letto matrimoniale I balconcini, no 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 ragazzi Mi sa che prendo questa, riprendo lo zaino e ce la rimetto dentro Ma la domanda è qua Cosa c'è all'interno? Forse qualcosa che non si può aprire Ok sì qualcosa che non si può aprire Cavolo Signori Il secondo ad entrare È tutta di legno Perché? Come tutta di legno? Ti sembra legno quello sopra? Ok no best Ma ma qua Ok qua ci hanno vietato È la zona, questa qua davanti In cui non possiamo entrare Perché se entriamo rompiamo tutto Ci sono robe delicate Esatto Noi non vogliamo rompere le cose Perché non vogliamo ripagarlo Ma soprattutto Ma no Cosa? Ma c'è una cucina enorme Non l'avevo vista sta cosa Una cucina decente No ragazzi fermi Allora best Questo è un passaggio segreto Questo è un passaggio segreto Qua ci giocheremo a nascondino Ma soprattutto Best Cos'è questa cosa? È una faccia Se c'è una persona Questo è palesemente Un coso che non dovremmo rompere Non lo rompere No best Mettilo giù Che tu sei pericoloso Oh Che bella Wow Signor Riff Allora potrei già aver trovato Camera da letto E biscotti Ma sono maiale Zio allora Questa è la migliore Allora io e te Io e te No 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 Ce ne sono altre Andate a vedere le altre Ce ne è una matrimoniale per te Ragazzi ho una cosa Ho una cosa a dire Ho una cosa a dire La più brutta va Boa L'ultima deve sentire Ma soprattutto la più bella La Mary Allora Boa tu Non rompere scatole Vattene di là a vedere la cucina Guarda qua un'altra camera da letto Eh sì però questa è da letto single Non possiamo stare insieme Ehi amico Ehi amico Ti manco il telefono Ehi amico A parte gli scherzi Quella lì è la più bella Guarda il bagno zio Entra a sinistra a vedere il bagno Il cinema animale Ragazzi sicuramente posso Dovendere nella cucina eh Ok Sì l'importante che non dormi Questa è nostra Bellissimo Questa è nostra zio È gigante Però fermi Boa A destra c'è la tua cameretta Guarda A destra Sì qua dentro c'è scritto cameretta Vedi lì leggi cameretta Entra entro un attimo Prova ad entrare Vai 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 pure Vai 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 dentro No 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 Ma è lo scapuzzino Ma è lo scapuzzino Ma c'è scritto cameretta Tra l'abbiamo presa forza per te Eh ho capito Guarda 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 Andiamo ad un cistone Signori questa sarà la nostra nuova casa Per un sacco di tempo Purtroppo perché a me stanno tutti antipatici No a me stanno abbastanza antipatici E wow Ve lo giuro ragazzi è figata Adesso dobbiamo fare una nuova per scegliere le stanze No 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 Non l'abbiamo già fatta Questa è nostra C'è una doppia finestra Vogliamo fare che è nostra Sì 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 Ragazzi Questa è nostra Cosa che non voglio fare Questa è nostra Tu puoi guardermi insieme Giusto No Puma dorme in cucina Nella stessa stanza È diverso no Io vi ricordo Io vi ricordo Io vi ricordo C'è una nuota Io vi ricordo un'altra cosa se posso Ci abbiamo tutte le nostre costazioni da montare fuori Quindi sì ecco Non dovete essere lì contenti e felici Perché dobbiamo montare il tutto I biscotti sono miei Ah giusto ragazzi Dimenticavamo Figo tutto Ma dobbiamo trasportare tutto dentro E montare tutto Vorrei compitare di Puma Quello vado a spaccare Dovrebbe essere Quella va di giochieri di calcio Vai 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 No Io ho tirato un cazzo davvero No Questo è quello di Re Quindi io potrei anche farlo cadere No ma io Dio che costa troppo Aspetta un attimo Ma era la tua E quella alla fine Era quella Quella di Puma Allora è difficile da presentare questa cosa Ma ci siamo appena ritrovati in una mega villa Con tutta la gang e È strafigo amico Amico il video della presentazione Deve uscire sul mio canale Hai capito? Ok Allora la lascerò a te Ma io ho in mente di fare qualcos'altro Di molto molto interessante Ma meglio che non mi sentano E voi vi chiederete Perché sto guardando la cucina Non lo so neanche io Vado un attimo di là che è meglio E quindi comunque Cos'è successo in questo frangente? No 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 Ciao fratello Non voglio saperlo Mi nascondo aiuto Ah comunque dovremmo postare tutte le montazioni Scrivani Le montazioni Le postazioni Intendevano Sentite ragazzi C'è bisogno L'ho fatta apposta L'ho fatta apposta Sì l'ho fatta apposta Aia Vabbè se non mi prendete in giro Ogni tanto mi Comunque vabbè Vi lascerò una bella clip Con il tutto pronto E sistemato Aspetta aspetta un attimo C'è la nocciolata Rigoni di Asiago La mangiamo tutti insieme Comunque mostrata la veloce Qua ci sono le camere Di best e power Qua c'è una matrimoniali Per gli ospiti Qua un bel bagno Molto figo E qua camera nostra È il nostro bagno ragazzi Tutta la presentazione Per bene Per bella Vedrete dare Efe E da me vedrete Ok siamo un attimo da soli Quindi ve lo posso dire Gli scherzi notturni Nella villa Degli youtubers Nella nuova villa Degli youtubers Che in realtà Neanche conosciamo a fondo Perché è stata Qualcosa di Un secondo ci siamo ritornati In questa villa È tanta roba ragazzi Ve lo assicuro Ah e vi ricordo Che ho disinstallato Per sempre stumble guys Quindi ci voleva proprio Questa cosa Ma sentivo nel mentre Che Beh No aspetta Non so Non so Non so spiegare No 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 Stavo ordinando il globo Ok si Complimenti Stavi ordinando il globo La terra completa Io concentrerei Sì globo in realtà Non globo Vabbè Comunque Entriamo in camera Di po' È diverso Fatemi chiudere la porta Non se ne è accorto nessuno Dove partiamo? Tipo Togliendo Chiudi Devo fare uno scherzo E fai niente di nulla No 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 L'acqua mi ha accesa Almeno la luce Ovviamente lo scherzo Sarà l'allumina Tanto non se ne accorge Tipo nel mentre Che loro urlano Se io prendessi Le scarpe di Pua Ma sono ba Ma perché sono umide Queste No no ragazzi Lo faccio per il con Ma solo per questo Dovete iscrivervi al canale Sto tenendo le scarpe Di Pua in mano Che puzzano Da così lontano Vabbè Io comunque Vado in bagno Ciao ragazzi Perfetto Questo è il posto ideale Anche se ci sono Un sacco di altre cose Che possiamo mettere In ogni altra parte del bagno E se ve lo state chiedendo Non sto esagerando Lo giuro O almeno spero Ve lo giuro ragazzi Qua non c'è ogni cosa Di Pua dentro Taran 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 Tac E questa signori Se ne va dritta A farsi la doccia E la cosa bella In tutto questo È che loro sono Così tanto concentrati A trovare il cibo E a prenderselo Più che altro Se no non mangerebbero stasera Loro non si sono resi conto Di totalmente nulla Signor Pua Ma dove ha messo le sue cose Perché io non vedo nulla In camera sua Ma perché stai guardando In camera mia Scusami Non lo so Me lo dovresti dire te forse Cos'è che ti serve I miei vestiti I miei vestiti Casi qualsiasi cosa Cosa No I miei vestiti Vabbè Sono qua Ok Le mie scarpe Sono qua E la valigia Ad esempio Dove ce l'hai Giusto perché Mi serviva una valigia O se no Sì qualcosa Le tue scarpe Tipo non so Così magari Mancano le mie scarpe E le due valigie Come le due valigie No Piano 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 Stai andando Pua Cioè dove posso avere le veste Se no nel vostro bagno Una è andata a fare la doccia Una si è messa lì Ma un attimo Perché Pua La chicca La cosa bellissima È che Le tue scarpe Dove saranno No Che schifo Che schifo Che schifo No dai Ma c'è pure Ti hai capisciato Non so è vostro questo gesto Vabbè comunque io me ne vado Ti chiedo scusa Ma questo è uno dei primi scherzi Che farò oggi Signore Ho già tolato Pua Come prima persona Ma tranquillo Perché passerò pure da voi Guardi che tu dormi nella mia camera Oh cavolo è vero Vabbè Stai attento Stai attento Sì ok ciao ciao Ma dopo Tranquillino starò attento E signori Giusto per aggiornarvi un attimo Sulla postazione Finita Ce l'abbiamo fatta C'è un po' ancora Da mettere a posto Best Un po' fino Sì un po' troppi cavi E scatoloni Però tanta roba E questa sarebbe la mia Penso a mani bassi La più bella Ah c'è pure il refla Che mi vuole sfidare Aspetta che arrivo subito Perché Qua no 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 Certo che fai il figo E Ok Ok Tanta tanta roba Sono sincero Ma la mia più bella Sì molto più bella E signori Torniamo a giocare su Fortnite Dopo un sacco di tempo Indovinate il ferro in arena Vittoria con 11 kill Io ve lo dico Solo codice ferro ragazzi Mi raccomando Signor Best Ma dove siamo finiti? Siamo finiti Da Xiu De Ron Ce l'abbiamo davanti Fratello Ragazzi Abbiamo lo special guest di JD Mamma mia Guarda che roba Siamo sopra in Games Week Però c'è un piaccio Non voglio Non possiamo Neanche il mio audio Si sentirà Però vabbè Bella Ciao ragazzi Siamo appena usciti Da Games Week Ci siamo persi Siamo in un posto Ci siamo persi Ci siamo totalmente persi Zio Vi aggiorniamo Quale lo dovessimo Trovare un posto Dove uscire E signori Diamo la fine Di questo primo video Vlog Nella villa Ma sappiate Che da adesso Iscrivetevi al canale Lasciate like Perché ne succederanno Di ogni Quindi Io vi saluto E vi lascio Al prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi